Infrastrutture al centro dell'incontro tra il governatore della regione Abruzzo Marco Marsilio e il viceministro al MIT Alessandro Morelli. Il presidente della regione ha consegnato al viceministro un dossier che racchiude le progettualità più importanti al centro del confronto tra regione e governo, reti viarie e ferroviarie, ma anche porti ed aeroporto. Marsilio ha anche chiesto al viceministro di garantire l'impegno del governo italiano nei confronti della Commissione europea sul negoziato che riguarda i corridoi europei della mobilità, le famose reti TNT, per sostenere la richiesta formulata dalla regione Abruzzo per ottenere il riconoscimento del porto di Ortona nella rete core del corridoio mediterraneo Tirreno Adriatico e del prolungamento dei corridoi lungo l'asse Adriatico. Dobbiamo far entrare pienamente l'Abruzzo in questa partita. Il viceministro ha ascoltato con molta attenzione le questioni che gli sono state sottoposte, garantendo pieno impegno per rimettere l'Abruzzo al centro delle politiche dei trasporti e delle connessioni. Su questo e su altri temi abbiamo trovato l'interesse, la sensibilità e l'attenzione del viceministro e siamo certi che onorerà questi impegni oggi assunti con la nostra regione.